Ti serve un certificato? Richiedilo online. Comodo, gratis. Dal 31 gennaio 2019 non si pagheranno più i diritti di segreteria per i certificati anagrafici richiesti online. La richiesta online garantisce comunque la piena validità, l'immediata disponibilità e attraverso un codice identificativo unico e un timbro digitale l'unicità e l'integrità del certificato.